Ovviamente il fatto di somministrare questo test di sicurezza sull'applicativo Zanardelli a tutti gli studenti della provincia di Brescia non vi vieta di somministrare, come già molti istituti fanno, un test specifico, molto di indirizzo, molto collegato all'esperienza e quindi alla tipologia di rischi che i ragazzi incontrano, invece rispetto alle loro esperienze particolari in quel tipo di azienda piuttosto che in quell'altra rispetto appunto al settore economico e indirizzo di studi dello studente. Cioè siete ovviamente liberissimi di fare tutto. Per il rilascio della certificazione è comunque il test su tutti i 31 tipi di rischi, come vi ho fatto vedere, che ci sarà in piattaforma.